Ascono gli ultimi led, si aprono le gabbie, partiti i cavalli dell'ultima corsa. Buona la partenza di tutti, ma la più veloce è la bottom weight Isole e Oli, subito accompagnata all'interno da Damocles. Terza posizione invece per Portoblanco con le maniche cap rosso, sempre maniche cap rosso, ma giuba gialla invece per il top weight Bravo Donald che si sistema in quarta posizione in seconda corsia. La seconda linea invece è formata da Sir Taki che è all'esterno di Tatapila, chiude il gruppo Stolenarti. Sette cavalli che sono circa in cinque lunghezze, si sono creati due gruppetti, Isole e Oli è in vantaggio nei confronti di Damocles, subito accompagnato anche lui da Bravo Donald e Portoblanco. Questi sono i primi quattro, poi in quinta posizione galoppa Tatapila che ha all'esterno proprio Sir Taki e chiude in coda il gruppo Stolenart. Si è raggruppato di nuovo il campo dei partecipanti, Isole e Oli è in vantaggio, gira stretto lungo lo steccato, Damocles è il primo a mettere pressione, Portoblanco che si sistema invece alle spalle di Bravo Donald con questi tre che sono in vantaggio, gli altri che dalle retrovie devono ancora chiamare a maggior impegno. In particolare Tatapila che ha preso la scia dello stesso Damocles, si avvicina anche Stolenart, Sir Taki che invece è al centro della pista. C'è un ampio ventaglione con Damocles in vantaggio nei confronti di Bravo Donald all'interno, è vitale ancora Tatapila, gli saltano tutti addosso, Bravo Donald all'esterno di tutti, ma lo stesso Sir Taki che fa lo scatto con Portoblanco contro Damocles ma soprattutto Sir Taki, Portoblanco contro Sir Taki, Sir Taki che passa deciso e vince. Chiude il pomeriggio così, dalle capanelle, trascinandosi Portoblanco e al terzo Damocles. Era troppo alta la quota di Sir Taki che aveva una chance grossa come una casa, 15 però la sua quota al tot, gli scommettitori non l'hanno seguito, Samuele Diana in sella che ci ha messo mani e piedi per portarla a casa, seconda posizione per Portoblanco rimasto in quota per il terzo Damocles, numericamente 5-3 e poi 2, l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile dell'ultima corsa da capanelle, Sir Taki è un figlio di Principa Adepto alla terza affermazione in carriera, lo ricordiamo ancora, l'ordine d'arrivo 5-3-2 si chiude così da capanelle, Samuele Diana in sella, il training di Adelmo Baldassarre, i colori della scuderia San Lorenzo, ringrazio anche i ragazzi della regia che ci hanno tenuto compagnia, questo è l'ultimo frontale, da capanelle è veramente tutto, cordiale buona serata, l'appuntamento è domenica con le corse al galoppo, le 4 listed.